L'aggettivo cool è un termine che in realtà parla molto del nostro bisogno di stare sempre al passo con quello che succede quindi anche con cose che tendenzialmente sono estremamente triviali ma che poi per la nostra pratica risultano degli spunti molto fertile. Ieri è stato abbastanza quasi illuminante vedere la metodologia di lavoro di Zac Blas. Ho riscontrato molte similitudini con la nostra pratica, un lungo percorso di ricerca, poi la volontà di arrivare a giustificare ogni singola operazione che fa nel proprio lavoro quindi c'è molta poca istintività. Sul linguaggio e sulla forma conduciamo una ricerca ma non è la nostra ossessione nel senso sono sempre conseguenze di una ricerca sui contenuti. Grazie a tutti.